Per il mondo che verrà, mi auguro che ognuno possa avere l'opportunità di viaggiare nello spazio, attorno alla nostra terra, vederla come una nave in viaggio nell'universo e apprezzarne la bellezza, l'unicità, la preziosità. Per il mondo che verrà, mi auguro che ognuno, vedendo questa nave, capisca che noi, esseri umani, ne siamo i marinai, tutti assieme, sulla stessa nave, senza confini, verso la stessa direzione. Per il mondo che verrà, mi auguro che ognuno possa capire che questa nave è la nostra casa nell'universo e che non è fragile. Siamo noi fragili in questa casa unica, preziosa e di tutti.